diventare piloti è un sogno a occhi aperti e mani incollate al volante per competere con i professionisti nel trofeo abart i 28 concorrenti di make it your race dovranno affrontare motori da competizione sfide al millesimo di secondo giudici inflessibili e professionisti dell'automobilismo sportivo la più grande avventura per aspiranti piloti sta per cominciare make it your race ogni lunedì alle 22 50 su timax